Musica All'inizio della stagione troviamo Capoe in tumulto. Per tutta la serie i gladiatori saranno in fuga e i romani cattivi, come li chiamiamo noi, daranno loro la caccia. Politica e intrighi disegnano un quadro piuttosto preciso della controparte romana. Uniamo le risorse in uno sforzo comune allo scopo di sbaragliare Spartacus e la sua orta di assassini. La gabbia di Roma viene scossa con violenza. Per loro sono come una gang. Spartacus! All'inizio Marco e Glabro hanno ben chiari i loro obiettivi, ottenere il triunfo militare e intravendere la scalata al Senato. Ma purtroppo per loro si ritroveranno costretti a gestire i disordini civili provocati da Spartacus. Hai portato tu il traccio sul suolo romano, Gallio. E tu hai garantito il tuo appoggio all'infame Battiato un minuto prima che la sua casa fosse teatro di quel massacro. Per lui è una ferita profonda che quello schiavo sia riuscito a metterlo in difficoltà, che lo distolga dalla sua vita e dalla carriera politica. Vorremmo sedare la sommossa al più presto per dedicarci ad altro, perché non è una missione prestigiosa, è una rottura di palle. I miei soldati sono stati assegnati a ben più elevati compiti per volontà stessa degli dei. E in questo preciso momento stanno accerchiando il traditore Spartacus!